Ciao a tutti, sono Simone Panozzo, lo chef del ristorante La Fiamma di Breganze. Oggi facciamo un primo piatto insieme, una videoricetta con i bigoli. I bigoli è uno spaghetto grosso, un piatto territoriale, veneto. Quindi pensavo di fare una carbonara appunto rivisitata con gli asparagi freschi. Partiremo dalla preparazione della pasta all'uovo, per chi ha tempo e voglia di farla in casa oppure comunque potete già acquistarli. E poi una carbonara, come dire, stagionalizzata. Adesso prendo tutto quello che ci serve, vi faccio vedere gli ingredienti e poi cominciamo a prepararlo, va bene? Ecco ragazzi, per la ricetta abbiamo detto che ci servono i bigoli, questo spaghetto grosso qua. Io li ho già preparati, basta solo cucinarli, quindi ogni porzione circa 150 grammi di pasta. Bisogliamo asparago bianco e asparago verde. Questo qua va prima pelato, poi lo rosoliamo, lo facciamo a pezzetti, lo sminuzziamo e lo rosoliamo in padella. Qua abbiamo il nostro lardo oppure la pancetta oppure il guanciale, quello che avete in casa, va bene? Sarà grosso per l'acqua, l'olio extravergine, del tuorlo d'uovo, il pepe mancabile in grani, il pettolino con l'acqua. Io adesso metto il pettolino con l'acqua sul fuoco e cominciamo a sbucciare, a pelare gli asparagi e a sminuzzarli. Ecco, facciamo gli asparagi. Ecco, facciamo gli asparagi. Allora, un po' di extravergine l'abbiamo messo. Andiamo a mettere gli asparagi. Ecco, lasciamo qua, facciamo andare a poco molto lento, poi in ultima dobbiamo aggiustare di sale e darci anche qui una prima passata di crepe. Ecco qui. Allora, gli asparagi si sono trasformati un po' in crema e un po' in pezzo. Allora, nel tempo che bolle l'acqua noi andiamo anche a fare a listarelle la nostra pancetta. Anche qui andiamo a rosolare, facciamo comunque con un goccio d'olio, io ci metto comunque un goccio d'olio per rosolare la pancetta. A questo punto possiamo mettere gli asparagi, mettiamo un po' a pezzi e un po' in crema. Ecco qua, possiamo lasciare a poco spento, intanto la pasta, diciamo che la base sugo è pronta. Ok. Mettiamo la pasta in acqua, poi spadelliamo e nella parte finale, sempre a poco spento, andremo ad aggiungere il tuorlo dell'uovo. Ecco qua, manca soltanto una grattata di formaggio e anche una grattata di pepe. Ecco allora i bigoli alla carbonara di asparagi sono pronti, adesso vado in tavola a mangiare. La parte più piacevole della ricetta sicuramente è quando abbiamo finito ed è ora di pranzo o di cena. Comunque se vi è piaciuto il video mettete un mi piace sotto a questo video. Vi chiedo anche di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un vostro qualsiasi commento che per noi sarà cosa importantissima. Vi auguro una buona giornata e alla prossima videoricetta. Ciao! Ciao!